Rieccoci Primo Sinter Palace, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come dico suetto, vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Ospite il sindaco di Padova, Sergio Giordani, che ogni tre settimane viene a trovarci per raccontarci quello che succede nella nostra città. Il primo argomento l'avete sentito, ovviamente riguardava lo spaccio e la droga qui a Padova, ovviamente è una battaglia che il sindaco ha iniziato a fare ancora appena ha iniziato il suo mandato e quindi per una battaglia che sarà ed è di difficile soluzione. Ricordo che Striscia Notizia ha fatto Vicenza, Bolzano, Verona, ha fatto tutte le città, è un argomento importante, ma ha fatto tutto, sta facendo tutto il Veneto e anche Bolzano. D'accordo, cosa vuole? Guardiamo una pagina di domande da farle, vuole che iniziamo in maniera leggera o iniziamo in maniera... No, quello che vuole, io non ho problemi di niente, tanto sono talmente tranquillo e trasparente che non ho nessun problema. Perfetto, iniziamo allora dell'ospedale. L'ospedale... E' pediatria, ovviamente intendo pediatria. Ovviamente pediatria è fondamentale. Il direttore generale ha mandato fuori il rendering di come sarà l'ospedale, no, tutto bello. Io penso sia abbastanza risolto, la faccenda che... Sono certo. E' il problema delle belle arti? Sono certo che sapramente la chitotiniera sta risolvendo il problema. È rimasto l'aspetto estetico dell'ospedale, della pediatria. Penso sia risolto con buon senso, non sta a me risolto. Certamente la chitotiniera sarà di vetro, sarà di acciaio, sarà di mattone, questo deve... Ho capito da parte di... Ma quanto la vedremo opera ultimata a pediatria? Eh... Tre anni, più o meno, penso. A costruirla? Tra progetto e tutto? Tre anni, non credo sia. Ma stiamo prendendo già due o tre mesi così, giocando su questo cosino qua. Io l'altro giorno sono stato in pediatria. Ho visto il supermercato, quello vicino alla Sacra Famiglia... fare un supermercato è una cosa, fare un ospedale è un'altra... No, in tre mesi sono due cose diverse, leggermente diverse. Sì, più o meno, però neanche da tre anni... Sì, più o meno. È il solito semplificazione. Ma neanche da tre anni, voglio dire... Ma il pubblico e amministrazione funziona in un'altra maniera, funziona. Progettazione di gara, concorso, uno contesta la gara, contesta la gara, bisogna rifarla... Cioè, è in continuazione a questo cosiddetto. Ma mi scusi se la interrompo perché... Mi interrompo, per la forza. No, volevo dirle, ma non è stato programmato tutto l'iperpediatria? Cioè, l'abbandono, è stato fatto tutto oppure no? È stato fatto il progetto? Il progetto, sì. Il progetto. Adesso, la sua intendenza ha detto il progetto impatta in maniera importante. Hanno risolto quel problema là, dicendo con la sua intendenza troviamo una soluzione sotto l'aspetto estetico. L'azienda ospedale ha dato la sua disponibilità, il direttore Flor, per cui stanno concertando la soluzione, che la troveranno, non ho ombre di dubbio. Chi contesta queste cose deve farsi un giro in pediatria. Io l'altro giorno sono andato per, ma la figlia di un consigliere è ricoverata in pediatria. Deve farsi un giro in pediatria? Deve vedere cosa sta succedendo in pediatria? Mi imbarazza? Mi vergogno? Perché sono i bambini che sono ricordati, mettono in corsia, in attesa, non hanno il posto? E abbiamo medici eccezionali. Funziona tutto. Mancano le strutture? Mancano le strutture? E continuiamo a fare politica e questo non va bene, questo è alto, questo è basso, questo... Ma Dio mio, continuiamo sempre, che poi ricordo, se per caso qualcuno ferma la pediatria, ferma l'ospedale, perché vuol dire che è compromesso tutto, non voglio neanche pensarsi. Per cui c'è, con il governatore Zaia, con il direttore Flor, siamo tutti concordi né spingere né trovare soluzione. E sono convinto che la soluzione c'è, col buon senso. Ma si è arrivati alla soluzione? Sì, stanno discutendo, la troveranno. Ah, ma devono ancora trovarla, quindi la soluzione? No, stanno concettando. Stanno discutendo, ma quindi devono ancora trovare? Verbalmente l'hanno già trovata, la trovano. E quindi possiamo stare tranquilli? Io sono tranquilli. Fra tre anni avremo... No, ho detto io tre anni, non sono né ingegnere né né architetto, conoscendo i tempi che si impiega a fare cose, minimo costruire una cosa del genere, secondo me non hanno messo. Io pensavo davvero che fosse molto più semplice, essendo... Non è un supermercato. Non si arrabbi, pensavo... Non è un supermercato. Sì, ma pensavo, essendo un unico manufatto... Un supermercato si mette a tre mesi a fare un supermercato. Sta qua e fa un privato e fa quello che vuole, spende i soldi che vuole e pensano suoi. Il denaro pubblico è una cosa seria. Ho capito. Va controllato tutto. Mi scusi se insisto, sindaco, perché devo chiedere scusa perché se esisto. Però se c'è già il bando, se c'è già il progetto, c'è già anche chi la costruisce, nel costruire questo manufatto, che è un pezzo unico, mi sembra che a tre anni siano tanti, solo qui mi soffermo su questo. Tanto tre anni, ho detto io. Può essere che sia anche due per quello che mi risulta. Vabbè, è diverso da due, insomma. Anche per i bambini che sono... Non lo so, non mi metto a fare architetto. Dico solo, conoscendo l'amministrazione pubblica, è leggermente lunga la faccina. Se sono arrivati a fare il progetto, e adesso non devo cambiare il progetto sotto l'aspetto estetico, non basta dare una mano di colore. Se per caso viene scelto che deve farci in vetro, sto inventando, e acciaio. Bisogna rifare il progetto, è chiaro. Adesso lei non è un architetto, nemmeno io. Ma le garantisco che cambiare un progetto è difficile. E devono modificarlo. E l'azienda ospedale ha detto, siamo disponibili, perché bisogna farlo. Abbiamo un dovere verso mamme e bambini, mamme e bambini. È una cosa seria. E questa cosa va risolta... Sì, ma bisogna, scusi, rifarlo o modificarlo per via delle belle arti, insomma, giusto? La sovrintendenza ha sollevato dei problemi in termini di estetica. E quindi bisogna rifare il... o modificare il vecchio progetto. Io ricordo che Padova è la città... In che cosa consiste questa modifica che lei ha richiesto? Estetica, estetica. Cioè la sovrintendenza, quindi... Estetica. Ha proprio una cosa estetica. Estetica. Non alto o basso, estetica. E si sono detti disponibili all'azienda ospedalea a investire ulteriori soldi per fare un'estetica di comune a Cordova. Dopo, un ospedale, per cui stiamo parlando di ospedale, non è una casa, non è un reparto, è un ospedale questo. La pediatria è un reparto dell'ospedale. Non è un reparto, è un volume grande, è un reparto. Volevo dire, sempre che mi chiedo scusa se mi sono spiegato male, che è un reparto, che è un'unica, diciamo, dove vanno solo i bambini, non è che sia un ospedale completo. Ecco, per quello ho detto, è un unico reparto. Ma è un volume importante. Sì, sì, certo. Per cui questo sono 8-9 piani, non mi ricordo. ma è concettato tutto a pediatria. Vuol dire che finalmente è risolto la capacità. Sì, sì, ma ho capito. Solo che dicevo, per quello pensavo che in meno di tre anni... Ma sì, sarà due, non lo so. Sarà anche due, per carità. Ho visto che ha fatto delle prove. Mi piace quando si arrabbia lei. Io non mi arrabbio mai. Ma quando si parla di bambini... No, perché io la conosco bene. E lei ha la mentalità di imprenditore. vorrebbe, questo conoscendo, che le cose fossero fatte oggi e per domani. Invece nella burocrazia italiana, la burocrazia purtroppo non si può. Purtroppo è così. E ha affrontato anche questo problema. Purtroppo è così. E per quello la vedo che sarà abbia. Perché lei vorrebbe che fosse già costruito. Io so, sto parlando da due anni e mezzo, tre di queste cose qua. E stiamo andando avanti, la gara. Dopo ho sbagliato il progetto. Non ho sbagliato, ho rifatto il progetto. D'altronde mi aveva promesso ancora quel benzinaio che si trova al Bassanello, che nel giro di un anno era buttato giù e ha fatto tutto nuovo. E anche lì ha avuto la sfortuna della burocrazia. Non ho la sfortuna perché io sono fortunato in natura. Abbiamo avuto la fortuna di avere la capacità di trovare altre due cisterne sotto che non sapevamo piccole. Lo sa che questa domanda che l'ho fatta gliel'avevo promessa a qualcuno e dunque era doveroso fargliela. Ma tanto viene sistemata. Se uno passa, vede che è stato sistemata. L'avevo promessa a qualcuno. Senti, invece l'eroe Marlen, quando inizieranno il lavoro, dovrebbero detto a fine anno, dovrebbero iniziare... Ha stato completato la Vassa, ha stato completato tutto. Non credo che siano più problemi. Anche loro hanno problemi burocratici, ma cominciano i lavori. Certo. Fra maio, marzo, aprile, non so. E quindi anche lì tra poco. Non sono problemi. No, perché è tutto bello. Lì il palazzo, il centro congresso, tutto quello che sta facendo a Pado sta cambiando davvero notevolmente la viabilità, l'arco di giallo, tante belle cose che sta facendo. Sono tantissime cose. È vero. Ogintanto mi stupisco... Però c'è un piccolo problema. Ogintanto mi stupisco delle cose che siamo riusciti a fare. Come? L'opposizione fa festa, queste cose dico io. A parte mi sono simpatici. La mia opposizione... Io amo l'opposizione. Le amo veramente. Sì, però un po'. Sono simpatici. È stato divertente anche l'altra sera, fino alle quattro. Grandissime. Io non sarò mai capace di fare queste cose. A me è negata questa operatività. Sono braio. Fino alle quattro siamo stati per piccole cose. Però è bello. Sto facendo un sacco di esperienze. Ma non è questo. Mi scusi, lo dici in maniera ironica? Lo dice... No, è bello perché imparo le cose. Imparo in continuazione le cose. È incredibile. È un'altra... No, te lo riesco a capire. È un'altra visione della società. È una cosa incredibile. È un'esperienza che io farei fare. Obbligatoriamente, l'amministrazione pubblica, la farei fare a tutti per capire che difficoltà ci sono. Lei è arrivato a metà percorso, giusto? Certo. Poi ne ha un'altra età, poi ha anche altri cinque anni. A me piace il Matisse. Sì, sì. Lo sa. Sistemare quest'area qua è vitale. Volevo dirle... Avremmo avuto la capacità come amministrazione pubblica di sistemare una cosa. Ho trovato un'azienda, che ricordo, è stata l'amministrazione precedente, applauso. Io ho continuato, perché ci credo. Trovare un'azienda che spende 32 milioni per sistemare tutto, chiaramente non sta facendo beneficenza, sta facendo lavoro, business, loro lavoro. Io sono contento. Ma sono contento di questo. Sono contento della prendina. Sono contento... Sono contento di tutto, sono tantissime cose. E' contento che fai il sindaco? Certo, sono contento. Quindi è arrivato a metà operato, a un'altra metà e poi potrebbe avere altri cinque anni. Ma io non so cosa... Io come i calciatori vivono alle giornate. I calciatori vivono anche nell'arco della carriera, no? Sto scherzando, sto scherzando. Io ci penso... Ho detto sempre. Prima, il Natale, non questo, l'altro posso decidere cosa fare. Io non so quante cene che vinco se riesco a fargli dire che si candida anche per... Non vincerei molte cene... Mi dispiace, ma... Secondo lei le vincerò... Ma fra me e lei le vincerò o le perdo quelle cene? Ma non lo so. Non lo so nemmeno io. E' un mestiere affascinante. E' un mestiere eccezionale. Un mestiere... Non posso neanche definire un mestiere. Un'opera. Fare qualcosa per la città. E' incredibile. Riuscire a concretizzare... Aveva ragione. Paolo Giaretta, quando mi ha detto all'inizio, farai un mestiere un po' faticoso ma affascinante. Aveva ragione. Il più bello è stile del mondo. Avevamo detto, tutti insomma che farei sindaco in una città. Il primo cittadino in una città è una delle più belle cose che uno può arrivare. E' leggermente impegnativo. Non sono giovanissimo. Ma sono sempre ingiovanito vedere... Ha i capelli sempre scuri. Cioè è una cosa... E non sono... Tinti, li garantisco. Ciocca la testa e non c'è problema. Va bene. Abbiamo un po' scherzato. Sto scherzato. Ma questo non lo so. Tra un anno deciderò. Tra un anno deciderò. Quando è che decide? Fra quando decide? Il prossimo... Non questo Natale. L'altro... E quando manca poco? Sono a tre mesi dall'arrivo. Cioè se passo due anni... Mi darà quello scopo... La pazienza che ha mio fratello che mi strozza. Mi darà lo scopo della mia tradizione? No. La pazienza che ha mio fratello. La pazienza che ha la mia famiglia. I miei figli. Devo dare a tutte quante le cose. Certo. Io sono stato molto egoista in questa scelta. Sono stato molto egoista. Sì, sono stato molto egoista nei confronti della mia famiglia, del mio fratello, della mia azienda. Guardi, non posso contraddire perché se io dico A lei mi dice B. No, vi garantisco che sono stato egoista. Non l'avevo sottovalutata. Sono contento di quello che faccio. Sì, non è proprio così. Mi entusiasma ogni volta che faccio una cosa che... Quando dico faccio, facciamo. Ho la brutta abitudine di parlare singolare. Ma non sono da solo. Ho uno staff importante. Ho un gruppo di assessori importanti. Ed è un gruppo che funziona a meraviglia. E mi piace. Ma se vuoi mettere come va? Benissimo. Anche se no... La volta era nato anche lì, si ricorda tutto bene. Dicono, non è simpatico. È vero. Non è simpatico. Però ha cominciato a sorridere un po'. Oh, da quando? No. Ma va, ma va. Sì, ha cominciato a sorridere un po'. Ma va. Aveva Musone, adesso comincia a sorridere un po'. Lui sa fare quello che a me serve. Come Tosetto, come la Jessica, come Tanner, come il segretario, come la Doressa Fiorita. Come tutti, ho capito. Io ho bisogno di... Di tutti. Ho avvocato Paio. Ho sette, otto persone. Non solo, non solo, voglio sottolineare un'altra cosa. I comuni di Padova, sia in questi due anni e mezzo, strutturati a livello di dirigenti ad alto livello qualitativo. Era già buono, ma tanta gente è andata in pensione. Abbiamo preso 6-7 persone in cui il comune di Padova ha fatto veramente il salto di qualità. E se Padova fa il salto di qualità, non è merito del sindaco, del vice sindaco, degli assessori, è merito dei dirigenti di funzione. Sono loro che ci mettono voglia di fare, impegno, dedizione. Sono loro che fanno fare la bella figura a me. Guardi, questo me l'ha sempre... Tu so, posso... È così, è così che funziona. No, perché facciamo lo spot per... Se uno pensa di avere collaboratori che non sono di qualità, circondarsi di yes men, di gente che ti ha ragione, non funziona, non funziona niente. Io non ho bisogno di fare carriera, non ho bisogno di andare a nessun posto. Io lavoro per la mia città, sono presuntuoso. Io lavoro per la mia città, ho una fortuna sfacciata, ho una fortuna sfacciata. Non ho capi politici, non devo rendere conto a nessuno se non ho la città. Caspita. Ho una cartellina qui... Eh beh, se le perde tempo, mi ricordo bene. No, ha fatto un intervento, insomma, che io lo sapevo già che lei avrebbe detto tutto questo, quindi non ho nessun dubbio. No, le volevo chiedere solo su Massimo Bettini, perché non lo vedo sorridere di più, vuol dire che, insomma... Sì, se non avessi 5-6 collaboratori miei sarei morto. Sarebbe morto. Detto questo, lei dice, ma i giornalisti vanno d'accordo con lo... Ma scarpita, ma vado a cena... Sono tutti amici, ma anche prima sono amici. Io vedo tutti... Tutti i posizioni. Senta, torniamo invece a noi. No, c'è una colpulizione. Senta, Padova, arrivano molti, questo lo dico seriamente, arrivano molti messaggi qui in redazione, poi li faccio vedere, che Padova ci sono molte buche, per quanto riguarda per le strade, ma molte, molte. E addirittura anche certe, addirittura... Siamo, è vero, lo sperimento anch'io, nel senso, vado in giro, ho già realizzato i servizi, stiamo facendo già l'operazione delle buche, è vero, col freddo, con la pioggia, tutti si sono aperte, molte buche, stanno lavorando in maniera importante, stanno lavorando, c'è anche la manutenzione, quei due famosi camioncini che girano in continuazione, che stanno sistemando la città. Abbiamo il dovere di tenere benissimo, questa è una città bellissima e deve essere tenuta come uno specchio. stiamo facendo tutto quello che possiamo. Ricordo che è sempre un problema, risorse, però stiamo investendo molto bene. Ma le buche si può far male? Certo, no, certamente. Ma appena mi sono accolto, ancora una settimana fa, ho chiamato il responsabile, ho chiamato l'assessore, senza che io chiamassi. Avevano già fatto tutto, stanno già operando. Per cui, presumo che in pochi giorni si è eliminato il problema. Proprio in pochi giorni? I giorni stanno tappando le buche. Ricordo che c'è anche un'applicazione in cui se uno vede la bucca e la fotografa e la manda, viene protocollato e viene fatto il lavoro. Abbiamo un'esposta positiva al 70% degli interventi. Per cui è anche un dovere ai cittadini fare queste segnalazioni, pretendere che l'amministrazione accumulare risolva il problema perché è un loro diritto, è dal nostro dovere sistemare le cose. questo deve essere fatto. Per cui la lampadina bruciata e le foglie e lo scarico, il tombino e bla bla bla. Tutte le cose? Tutte le cose. Fate le foto, inviatele e cerchiamo di risolvere tutte le cose. Nel limite possibile. Si è salvato. Uno mi dice, No, sì, però con l'ultima parte si è salvato tutto quello che... Possiamo fare tutto, magari. No, certo. L'abbiamo detto tutto bene. Io ho detto ai miei, non raccontate bugie. Se uno chiede, c'è da fare questo malcepede, non dite, si sfredita, dite, no, quest'anno non ho i soldi, forse il prossimo anno. Diciamo la verità, non creiamo falsi desideri. Dopo la gente si arrabbia. Meglio dire, no, non posso, no, non ho i soldi, che dire, ma vediamo, vediamo se possiamo. Dite la verità, il polizio non piace fare se la roba. Io ci metto la face, no, non posso, perché non ho i soldi, forse il prossimo anno. Non frega niente, sono fatto così. Dopo vado a casa di me, dico, no, non si dice così, bisogna stare attenti, bisogna dire questo, io dico, non ci sono i soldi, perché non si fa, punto. È giornata molto grittosa oggi. Sono grittoso, sono... No, la vedo davvero in forma strepitosa. Andiamo in pubblicità, noi prendiamo un po' d'acqua, poi ci ritorniamo tra poco. Ottimo. Grazie. 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 Grazie.